Iniziamo dai piedi, gambe rimaricate, lentamente piegate su col busto, prendiamo bene le spalle, con vento sollevato andiamo ad appoggiare una mano sull'altra e lasciando le braccia rilassate e iniziamo con solo dei piedi respiro, inspiriamo bene aria dentro dal naso, soffriamo e svuotiamo bene fuori l'aria della bocca, allunga e distendendo la colonna verso l'alto, avvicina bene le scapole, prendendo bene le spalle, inspira profondante l'alto dentro dal naso, e svuotiamo bene fuori l'aria della bocca, ancora una volta, inspira, ed espira, bene, lascia bene sul busto, le spalle aperte, le scapole vicine, e avvicina, aumenta lentamente, accompagna giù il mento verso lo sterno, con ruota e la mano per l'esterno, vai qui, tutto il fondo, senza esforzare, vada a sinistra e poi vai giù, cambia, sinistra, dito, inizio, giù, al centro, qui, le spalle vicine bene le scapole, ruota la testa, lo sguardo verso l'esterno, accompagna indietro la spalla sinistra, passa al centro, e cambia dall'altra parte, accompagna bene indietro la spalla destra, al centro, vai molto fino alla linea, ritorna, accompagna giù il mento verso l'esterno, e ritorna, legge destra la spalla destra, accompagna giù la sinistra, passa al centro e cambia dall'altra parte, al centro e cambia, dall'altra parte, l'ultimo ruolo, benissimo, come distrazione bene la colore, le spalle vicine riscaldate la nuova macchia, porta i palmi di mano parallelo al mento, inspira, viva ancora tra le spalle, e respirando, ritorna bene i giù, ancora, inspira, ed espira, ancora una volta, e adesso, accompagna le spalle di bambino, su verso il soffitto, apri bene indietro, piedi bene la scapola, per me in giù, ancora avanti, soffitto, indietro, cambia dall'altra parte, apri le spalle vicino alle scapole, su verso il ruolo, spalle verso il soffitto, avanti e giù, prima ancora una volta, e adesso, ora appoggia le mani in fronte, impiegamento, inutili le gambe, le mani col busto sollevato, le spalle aperte, anche la ritroversione del bacino, verso il piede dentro, l'icco, attiva per i minuti, porta il tuo primo in avanti, per accompagnare il mio giù, e le mani che allunga, nel passo a dole, cerca di concentrare, nel movimento sul bacino, e non spingere, né con le gambe, né con la schiena, cerca di non farla strada, in avanti col busto, ancora, ancora, e poi ancora, lascia le mani in fianco, che vai a disegnare, dei cerchi, tu mi faccio, un nuovo spender, con la schiena, anche dall'altra parte, prezzi, lascia le mani in fianco, con i piedi, attiva bene l'addome, allunga bene la colonna, verso l'alto, lascia le spalle a perdere, scavo vicino al suo convento, sullevantiamo le destra, circonduzione con baccabilia, carri la, per un momento, in un giocchio, cercare di non muovere, la baccina al fianco, stesso a piede, dall'altra parte, appunto il tallone, camia, l'altro, circonduzione con baccabilia, dall'altra parte, dall'altra parte, prezzi, ora appoggio bene i piedi e tetta, attiva bene l'addome, l'addome, la colonna, apri le spalle, vicino alle scapole, sul convento, andiamo a riscaldare, le muscole sulla colonna, la colonna, insula, passo più dell'aria, porto giù, dietro, curva, la parte quarta della schiena, scavendo il corattore, accompagno la parte, luce, la parte della schiena, verso il soffitto, vai giù con il busto, cercando di avvicinare, i piedi, senza, per un paccio di toccarli, lasciamo le braccia, attenzione, lasciamo la testa, pesante verso il bambino, e lo sguardo verso le ginocchia, di qui, spiegiamo, verso il pedelario, srotto, abbiamo una colonna, nella colonna, overtela, appogliamo il superiore, a parte di base della schiena, c'è la parte centrale, la parte della scapole, le scapole, lo spalle, il collo, il vento, apriendo la spalle, subito il tuo piede, espira, espira, corte di un vento, scape la microdola, colora la glomba, avvicinare la piccola, per i sensi, con la parte di tutta, la scena d'arte, pezzare la mano, lascia la testa, nel mano sul topo, lascia la spuola, no sui ginocchia, rimane, per la parte di base, in occhi, a cantare, potete andare a percepire la sensazione di rilassamento sulle fasce normali un po' più respira respira, respira un po' sopporto, a vertigo che fornete un'altra volta senza fretta quando sei su, apri bene le spalle ora piegando le gambe andiamo a recuperare il nostro elastico lasciamo le gambe rimaricate, le lasciamo già tutte piegate andiamo ad affarreare l'elastico cercando di lasciare l'elastico tra le mani sempre in leggera tensione quindi mai rilassato, mai verso il basso sempre in leggera tensione le mani sono verso di te, le spalle sono aperte, subo il mento e inspira espirando semplicemente tiriamo l'elastico verso l'esterno cercando di avvicinare ancora di più le scapole prendo bene le spalle inspira, al soffio dell'aria e ritorniamo senza lasciare andare giù l'elastico che rimane in continua tensione metto sollevato, lo sbordino avanti la colonna distesa, le gambe leggermente piegate inspira, avvicinare dentro dal naso ispirando, apri ancora di più le spalle avvicinare ancora di più le scapole inspira ed espirando ritorna senza lasciare un rilassato dell'elastico inspira, espira, tira avvicinare le scapole inspira, espira, ritorna inspira ed espira, ritorna inspira ed espira, ritorna inspira ed espira e ritorniamo avvicinando tra le scapole inspira ed espirando e ritornito inspira ed espira e ritorniamo inspira ed si la ritorniamo ancora 2 soprave e tamarme spira, soffre i pitoni, ancora uno, soffre e tira le mani, vento sollevato, spada aperta, scapola vicina, piccola assistenza spinante, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le mani, ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le mani, ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le mani, e rilascia, stesso lavoro ma portiamo l'elastico dietro, lasciamo comunque l'elastico sempre leggera attenzione, un male rilassato, lasciamo le spalle aperte con le scapole vicine, su colmento, inspira, soffre dell'aria, attira un elastico verso l'esterno, avvicina ancora di più le scapole, apro ancora di più le spalle, inspira ed espirando ritorna, inspira, espira, tira, inspira, inspira, espira, ritorna, inspira, espira, tira, inspira, espira, ritorna, inspira, espira, tirate le spalle vicine alle scapole, e ritorna, ancora 2, tira, inspira, ritorna, ancora 1, le mani, con insistenza, espirando, non dare sbarcia alla schiena, tira, tira, 3, 4, 5, 6, 7, 7, non mollare, sono gli ultimi, 3, 4, 5, 6, 7, rimani, e rilascia, benissimo. Portiamo ora le braccia aperte di fronte a te, line alle spalle, le spalle aperte, le scapole vicine su colmento, inspira, al soffio dell'aria, tiro l'elastico e sollevo le braccia verso il soffitto, allontanando bene le spalle e dalle orecchie, quindi le spalle non seguono le braccia verso il soffitto, ma spingono verso il pavimento, inspira, al soffio dell'aria, rilascio senza lasciare l'elastico rilassato, riporto le braccia in avanti, sempre line alle spalle, non più giù, inspira, soffio dell'aria, tiro l'elastico, sollevo le braccia giù le spalle, inspira, espira, ritorna, braccia in avanti, spalle che tirano indietro, inspira, espira, solleva, inspira, espira, ritorna, inspira, espira, tira e solleva, inspira, espira, ritorna, ancora, tira e solleva, e ritorna, ancora due, tira e solleva, e ritorna, ancora uno, rimani con le braccia sollevate, giù le sfalle, sui colmento, dovi profondo, colonna distesa senza dare spazio alla schiena, piccoli sessenti, ispirando, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continua, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani, inspira, ed espirando, ritorna, benissimo, ci sediamo, e teniamo a portata di mano il nostro plastico, appoggiamo i piedi, stringiamo bene una gamba verso l'altra, e sulle gambe appoggiamo le mani, destra sulla destra, sinistra sulla sinistra, giù con i gomiti, giù con le sfalle, sui colmento, inspira, allunga, cresce verso il soffitto, vicino alle scapole, mento sollevato, alza il fio dell'aria, scava dentro l'addome, curva la colonna e accompagna giù il mento verso lo sferno, curva la colonna per rilassare la schiena, non creare tensione sulle braccia e sulle spalle, inspira e ritorna, giù i gomiti, giù le spalle, sui colmento, espira, scava dentro l'addome, curva la colonna, scivola indietro con il busto, soffra e svuota, fuori l'aria, ancora per due, giù i gomiti, giù le spalle, inspira, soffra e svuota, fuori l'aria, ancora per uno, inspira, inspira, ora prendiamo il nostro elastico, abbracciamo i piedi, la mezza dei piedi sull'elastico e tiriamo verso di noi l'elastico con le mani che si muove da noi, eseguiamo lo stesso esercizio, tiriamo l'elastico, allunghiamo la colonna verso il soffitto, apriamo bene le spalle su colmento, a soffrio dell'aria andiamo a disegnare una C nella colonna, scaviamo dentro l'addome e leggermente avviciniamo le mani verso i piedi, quanto ti serve per sentire sempre l'elastico e legge la tensione e per sentire la C sulla tua colonna, tira l'elastico, avvicina i gomiti ai fianchi, apri le spalle avvicinando le scapole sul colmento, al soffrio dell'aria scaviamo dentro l'addome, vado a disegnare una C con la colonna, avvicina leggermente le mani ai piedi senza distendere totalmente le braccia, punta dei piedi verso di te, inspira, tira, tira, allunghiamo, espira, scavi nel trattone con la colonna fuori l'aria e giù colmento, inspira, gomiti stretti ai fianti, spalle aperte, scapole vicine sul colmento, espira fuori l'aria, ancora una volta, inspira, respira, ora, inspira, allunghiamo, tira, respira, scavi nel trattone, disegno una C, rimani, braccio destro, inspira, soffri dell'aria, lascia indietro il busto, la colonna C, apri il gomito verso l'esterno, allunghiamo la spalla, inspira, espira, ritorna, il mento qui rimane sollevato, lo sguardo in avanti, le spalle aperte, le scapole vicine, la colonna leggermente a C, inspira, espira, gomito allunghiamo la spalla, inspira, espira, ritorna, inspira, espira, tira, inspira, espira, ritorna, elastica di tensione, espira, tira, inspira, espira, ritorna, para due, espira, tira, inspira, espira, ritorna, ancora uno, espira, tira, inspira, espira, ritorna, inspira, ed espira, ed espira, e torna, se ti serve, lascia un attimo l'elastico, muovi bene le tante delle mani, circondazione con i polsi, sia da una parte, e anche dall'altra, benissimo, riprendiamo il nostro elastico, gomito stretti e fianti, spalla aperta sul colmento, inspira, tira, espira, disegna la cittura, con la colonna, spalle, dentro, dì, inspira, sottolineare tutto l'oraggio, gomito fino alla spalla, vicino alla scapole, sul colmento, inspira, espira, ritorna, spira, inspira, espira, sal, inspira, espira, mi posiziona, mi prepara, inspira, espira, tira, gomiti nella spalla, inspira, ritorna con i gomiti stretti ai fianchi, inspira, ed espira, allungo, da capo, inspira, allungo, espira, fuori l'aria, mi prepara, inspira, espira, tiro, gomiti nella spalla, su colmento, inspira, gomiti stretti ai fianchi, inspira, espira, ritorna, ancora, inspira, espira, inspira, ed espira, inspira, inspira, espira, inspira, ancora per una volta, prima di eseguire il movimento, inspiro, espiro, mi preparo, prima di eseguire il movimento, inspiro, espiro, tira, inspiro, uso l'espirazione, ritorno, giù con i gomiti, inspiro, benissimo, spiro l'elastico, con le mani, prendo i piedi, i gambe dove arrivo, giù con i gomiti, giù con le spalle, appoggio il mento alla fronte, sulle ginocchia, rimango lì, per qualche respiro. benissimo, ritorno, incrociamo l'acqua con le gambe, appoggiamo le mani davanti, apriamo le spalle sul colmento, andiamo a percepire bene l'appoggio sui rischi, non venuti sparmati sul tappeto, inspiriamo, non per più l'appoggio verso il soffitto, aspettiamo, andiamo a camminare avanti, portiamo bene l'espargio, il mento sollevato, lo sguardo verso il basso, rimani lì per qualche respiro, cercando di percepire l'appoggio dei glutei sul tappeto, se vuoi appoggiare i colpi a terra, c'è qualcosa di più, sui rischi, un po' di più, ripeto, ispira ed ispirando, andiamo lì, ancora per una volta, apri le spalle, vicino alle scapole, sul colmento, ispira, assurdo dell'aria, cammino, incollo i punti sul cappetto mi appoggio corto bene dito le spalle mentre sollevato lo sguardo verso il basso quando ci sei cerchi qualcosa di più e rimani per qualche rischio respira e respira benissimo respira le gambe e andiamo ad abbracciare di nuovo i nostri piedi avviciniamo i comiti ai fianchi abbiamo bene le spalle avviciniamo bene le scapole sul colmento punta le piedi verso il tetto la linea avanti le gambe che stringono bene una verso l'altra abbracciano bene nella linea media stringono già a partire dall'interno coscia vado a percepire bene l'appoggio degli stagli sul cappetto attivo bene l'andone allungo la colonna inspiro espiro tiro ancora di più porto i gomiti verso dietro avviciniamo le scapole apro le spalle inspiro espiro porto le mani vicino ai piedi inspiro espiro tiro avviciniamo le scapole apri le spalle su colmento inspira espira porto le mani verso i piedi attenzione che il movimento è concentrato sulle berassi se il posto rimane fermo l'addome attivo la colonna continua a spingere verso l'alto inspira inspira espira tira inspira espira espirando ritorno inspira espira tira gomiti stretti e fiammi apri le spalle vicino alle scapole inspira espira espira ritorno inspira inspira espira spinge ancora di più la colonna verso il soffitto inspira espira ritorno ancora per due volte espira tira inspira espira espira ritorno spira ancora per una volta spira spira espira ritorno spira spira l'elastico appoggio la perna avvicini ai piedi e prendi i piedi con le mani le gambe appoggia il mento la fronte sulle ginocchia rilassa lascia andare fuori lontano bene andiamo ora ad accomodare la schiena sul tappeto teniamo l'elastico portata di mano e usando le braccia per non collassare con la schiena accompagnandola sul tappeto appoggiamo la testa giù con il mento abbracciando le ginocchia le portiamo il petto e andiamo a percepire bene l'appoggio della schiena sul tappeto lascia andare fuori l'aria rilassa le braccia e le spalle rilassa la torna della schiena intorno alla destra e sinistra per un leggero massaggio sulla fascia normale e conditi solo giù il mento verso lo sterbo per non sovicitare la colonna cerchicare benissimo ci fermiamo al centro appoggiamo i piedi punta dei piedi in avanti ginocchi aperti contro le spalle appoggiamo le mani dietro la luta ci concentriamo sull'addome e sul rastro inseriamo bene l'aria dentro dal naso al soffio dell'aria solleviamo la testa le spalle le scapole dal tappeto usando per l'addome senza spingere con le mani con i gomiti aperti con il mento sollevato inspirando cerchiamo qualcosa di più e al soffio dell'aria ritorniamo senza appoggiare la testa sul tappeto se possiamo senza sollevare la vasta schiena dal tappeto inspira al soffio dell'aria solleviamo la testa le spalle le scapole attivo bene il prevenuto per il trasverso il goccio di pipida per tenere stringi con l'addome di profondo inspira e al soffio dell'aria ritorni inspira inspira solleviamo la testa le spalle le scapole inspira solleviamo la testa le spalle le scapole inspira e espira ritorno ancora due fuori l'aria inspira espira ritorno 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 ancora per uno fuori l'aria mani leggeri porti aperti metto sollevato piccola insistenza ispirando 10 9 8 7 6 5 4 3 2 con le mani distendi le braccia cercano qualcosa di più usa bene l'addome piccola insistenza ispirando 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 mani e ritorno appoggiamo la testa e prendiamo il nostro elastico ok solleviamo le braccia giù le spalle le mani che si guardano giù con le persone stelle inspira soffri dell'aria e tira l'elastico verso l'esterno inspira e espira e tira e tira e tira e tira e tira apri bene le spalle e tira 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 ora inspira ed espira e tira e tira cerco il posizio ora e tira piccola insistenza e tira 8 7 6 5 4 3 2 rimani cerca qualcosa di più tipo di insistenza spirone 8 7 6 5 4 3 2 e rimani e lascia benissimo accorgi l'elastico terra mani dietro la lunga espira 2 tempi solleva la testa e le spalle dispendo le braccia ritorno con le braccia ritorno con la testa e le spalle non spingere con le mani dietro la lunga e espira alzò e fidelare solleva la testa e le spalle e le scatole del terpetto e espira cerca qualcosa di più di stendere le braccia in avanti porta bene indietro le spalle e mantieni il mento sollevato inspira appoggia leggermente le mani manucca soffi dell'aria riporta la punta delle scapole le spalle se forno ad appoggiare la testa inspira testa spalle scapoli espira fuori l'aria lunga inspira leggero l'appoggio delle mani espira leggero ritorno ancora per 2 volte inspira solleva es cerca qualcosa di più in ritorna es appoggia ancora per 1 in sollevo es allungo in appoggia es ritorno bene la testa rimane appoggiata giù con il vento prendo l'elastico sollevo le braccia giù con le spalle le braccia sono distese giù con le spalle strappo le vicine sollevo la gamba maestra verso il soffitto la pianta del piede parallela soffitto il ginocchio rilassato inspirando porto in avanti la grana porto dietro le braccia e tiro l'elastico verso l'esterno cerco di non perdere il contatto della schiena sul tappeto allungo bene il tallone in avanti spingo bene la punta del piede verso il ginocchio espirando ritorna senza lasciare rilassato totalmente l'elastico sempre in leggera tensione giù le spalle e giù con le spalle inspiro tiro comprimo la schiena attivo bene l'addome espiro ritorno senza lasciare totalmente rilassato le nasi inspira espira inspira giù con il mento espira ancora due espira ancora uno tallone in avanti punta del piede verso di te 3 tira bene l'elastico giù con il mento piccola insistenza ispirando 8 7 6 gambe gambe braccia 4 3 2 rimani e ritorna appoggia il piede solleva la gamba sinistra piede in flex ginocchio rilassato giù le spalle giù con il pen inspiro tiro espiro salvo ancora inspiro tiro espiro salvo ancora 4 espiro ancora 3 espiro ancora 2 espiro 1 tallone in avanti punto del piede verso di te tiro bene l'elastico giù con il mento piccola assistenza ispirando 8 7 6 5 4 3 2 rimani e ritorna giù piedi appoggiati il ginocchio il ginocchio fermo paralele distendi le braccia per il volcone appoggia bene i palmi delle mani apri bene le spalle fai scivolare la punta delle scapole verso il glutee ricordati giù il mento verso l'ospedale inspira soffre dell'aria solleva il bacino la parte più bassa quella centrale della schiena attiva bene il glutee lascia il ginocchio fermo e paralele lascia scivolare il peso del corpo sulle spalle e sulle scapole espira soffre dell'aria scave dentro l'addome per il corpo dopo perterla appoggia la colonna tutto a tutto piedi espira espira solleva il bacino la parte più bassa della schiena la parte più centrale attiva bene il glutee ginocchio paralele giù con me espira espira scave dentro l'addome srotra la colonna e ritorna inspira respira solleva fuori l'occhio inspira respira ritorna scave dentro l'addome srotra la colonna ancora più volte piano respira solleva inspira respira ritorna spira respira respira solleva rimane ritorna 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 conci le spalle sulle scapole e con resistenza espira 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 rimane inspira ed espira spira ritorna 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 con l'elastico verso l'esterno espira torniamo con le braccia torniamo con le braccia torniamo con le braccia con le braccia espira tira espira sal espira sal ancora un ritorno e sal appoggia l'elastico appoggia le ginocchio il frattempo dopo una volta destra e sinistra andiamo a fare un leggero massaggio sulla fascia non va lasciando la forza benissimo appoggiamo i piedi ponte le piede in avanti giriamo più parte contro le spalle schiena incollata mani liberi solleviamo le braccia le mani si guardano giù le spalle andiamo indietro con le braccia ruotiamo le braccia verso l'esterno portiamo bene le braccia in avanti portiamo le dita delle mani e le spalle verso i piedi inspiriamo saliamo indietro espiriamo apriamo le braccia verso l'esterno portiamo le braccia in avanti inspiro sali dietro e espira continua a percepire il contatto della schiena sul cappello la parte più bassa la parte più centrale la parte più alta ora cambia dall'altra parte avanti portando bene in avanti le spalle senza aver freddo di aprire poi apri poi vai verso dietro e poi sali vai avanti avanti e sali l'altra uno e sali bene ristegniamo le braccia in avanti al corpo facciamo le palle delle mani apriamo bene le spalle facciamo scimolare bene la punta delle scapole verso i glutei liberiamo dal pancoglio giù con il vento spieghiamoci caldo spieghiamo le gambe verso il soffitto leggermente piegati con piedi in flex piccolo sforbriciato espirando uno due tre quattro cinque sei sette sollevano la testa e spalle continua due tre quattro cinque sei sette grazie uno due tre quattro cinque sei sette otto ginocchio quattro appoggiamo i piedi punta di piedi in avanti ginocchio per quanto le spalle premiamo dell'asco portiamo le braccia verso il soffitto mani indietro nelle spalle ballo le mani in avanti giù le spalle e scapole vicine giù con la mente per non sollecitare la colonna del cervicale ispiriamo al soffitto dell'aria solleviamo il bacino e tiriamo l'elastico verso il sterno attiviamo bene i gluti lo ispiriamo ed espirando stavolviamo la colonna per quella parte più centrale per la parte più bassa della schiena rilasciamo l'elastico come prima senza lasciarlo mai totalmente rilassato ma sempre legge la distensione inspira e respira tira solleva attiva bene i gluti inspira e respira rilasci inspira e respira tira solleva attiva bene i gluti e respira e respira e respira scala e tira dobbiamo la parte più alta e centravi bassa della schiena ancora tre inspira a le persone inizio inizio ancora una le mani respira e respira ritorna appoggia l'elastico appoggia le mani inizio le mani di prima nuca lascio la testa peggiappa lascio la schiena incollata sollevo le gambe verso il soffitto con i piedi in fresco e le ginocchia rilassate piccoli, poi ci ispiriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sollevo la testa e le scuole l'omito aperto sul colmello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 scegno e continuo 4, 3, 2, sal 4, 3, 2, scena 4, 3, 2, sal 4, 3, 2, giù portarei l'occhio aperto e incollata soffi e svolta fuori l'aria attorno alla testa a sinistra rilassa le braccia, le spalle rilassa l'attorno e la schiena giù il quadrimento appoggiamo i piedi punto dei piedi avanti, ginocchia parliamo anche le spalle mani libera solleviamo le braccia le mani si guardano porta bene giù le spalle avvicina bene le scapole giù con l'omito alterna le braccia un braccio mai dietro l'altro avanti senza toccare la terra espirando ritorno portando ispira 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 uno due tre quattro cin sei sette cin uno due tre quattro cin sei sette stop mani mani di tenere la luta testa colgare schiena impollata sogniamo legato il tuo genocchio sopra il fianco interna finire le genocchia punta dei piedi verso di te con i talloni avanti una gamba si distende l'altra si piega la schiena non si solleva dal tappeto espirando cambia ricordati di tenere sollevato il tallone della gamba che pieghi espira uno espira due espira tre espira quattro espira cinque espira sei espira sette due esistenze espira uno due 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 tre due quattro due cinque due sei due sette due solleva la testa e le spalle e continua manda la base alla schiena su colmento pomiti aperti su per i talloni ancora quattro tre due un tempo solo ruota con la busta uno cambia due cambia tre cambia quattro cinque sei sette due esistenze espira uno due 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 tre due soffre soffre cinque due sei due sette due otto due di quattro un due soffre il risulta per la flore l'aria tolora destra cinza cinza Faccia andare il posto, giù, netto, al centro, al porto il piede. Magno libera, solleva le braccia, mani in avanti, giù le spalle. Avvicina le scapole, respira, porta le braccia a camminiere senza toccare la terra che toviti, e respira, ritorna, porta bene giù le spalle. Inspira, apre, respira, solleva. Inspira, apre, respira, solleva. Inspira, apre, respira, solleva. Inspira, apre, non resistenza, solleva. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, continua. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, continua. Uno, tre, quattro, cinque, sei, sette, mani. Solleva, mani in seguito. Porta dietro le braccia, appoggi la terra. Pane delle mani verso il soffitto, porta bene in avanti le spalle, incolla bene la schiena sul paletto e giù con vento verso l'esterno. Vai a percepire bene il contatto di tutta la schiena sul paletto. Ora porta le braccia lungo il corpo e appoggi i palmi delle mani. Apri bene le spalle, avvicina bene la punta delle scapole verso i glutei, giù con vento. Piedi appoggiati, punta dei piedi in avanti, ginocchio aperte quanto le spalle. Inspirando, solleva su il mento verso il soffitto. Inspirando, compagna giù il mento verso l'esterno. Inspira, solleva. Inspira, ritorna. Inspira, solleva. Apri bene le spalle, avvicina bene le scapole, ai glutei. Inspirando, vuota la testa e lo sguardo verso destra. Inspira, ritorna al centro. Calma, sinistra. E ritorna. Ora, ispirando, vai a destra. Espirando, accompagna giù il mento verso la spalla. Inspira, risolleva il mento. Ed espirando, ritorna al centro. Cambia dall'altra parte. Prima, ispirando, ruota. Espirando, fletti giù in diagonale, avvicina il mento alla spalla. Inspira, ritorna. Espira, ritorna al centro. Facciamo 3 per una volta. Inspira, prima ruota. Espirando, divido, che sono, fletto in diagonale, avvicina la punta dell'alto alla spalla. Inspira, ritorna. Ed espirando, ritorna al centro. Anche dall'altra parte. Inspira, prima ruota. Espirando, fletti. Inspira, solleva. Ed espirando, ritorna. Lascia il piede in braccia, lungo il corpo e farvi delle mani appoggiate, anche a retroversione del bacino. Inspirando, porta il piove verso il tappeto. Sposta il peso del corpo sul bacino e sui rischi, cercando di creare uno spazio tra la parte più bassa della schiena e il tapputo. Assoffio delle ali, scavo dentro l'addome. Sposto il peso del bacino sulla fascia lombare e leggo il polvo sul tappeto. Attivo bene i glutei. Stringo. Accompagno il cubo verso il soffitto. Inspiro, allungo il basso addombo. Cerco di sollevare la bassa schiena dal tappeto senza sforzare, finendo la rima. Espiro, incollo la fascia lombare. Attivo bene i glutei, porto il cubo verso il soffitto. Una volta per due. Inspiro. Espirando. Ancora il calore. Inspiro. E espiro. Bene. Ora ti svegli le gambe. Lasci che la schiena prendi alla sua domanda finale. E porta indietro le braccia, appoggia l'orso delle mani, palmi delle mani verso il soffitto. Porta le zanette davanti e le spalle. Giù, connetta verso lo sterno, rimani. Lasciando che la colonna prenda la sua forma naturale. La riporta le braccia, appoggia l'orso delle mani, palmi delle mani e lascia che la schiena rimani nella sua forma naturale. Chiudi gli occhi. Ora nasce un panel tuo spirito non sforzato. Ora libera la parte. Stacca la testa da tutte le attenzioni della giornata. e tristica. Edificati una mani, palmi delle mani, palmi delle mani. Nessuna, tu nessuna fatica. Solo piacevole sensazioni di rilassamento. Lascia andare il tuo respiro. Lascia andare il tuo respiro, non sforzato. Sforzato. Inizia da una parte più alta del tuo corpo e rilassa la testa. Rilassa gli occhi. Rilassa gli occhi. Rilassa la mantigola e le spalle. Rilassa le braccia e le mani. Rilassa il tuo respiro. Rilassa l'abdomino e la schiena. Rilassa l'abdomino e la schiena. Le mani per il tuo piede. Rilassa l'abdomino e la schiena. Nessuna, sulla fatica. Solo piaceva le sensazioni di rilassa. e non scarciarli con i suoi spi. Ora, senza fare nessun momento, vai soltanto a percepire il ritmo di contatto dei tuoi terlocchi sul tappeto. A salire il contatto dei colpacci sul tappeto. Il materino. La parte più alta della schiena con la braccia e le mani. E la testa. Le mani più in dettaglio per vedere il nostro. La parte più alta della schiena con la braccia sul tappeto. La parte più alta della schiena con la braccia sul tappeto. La parte più alta della schiena con la braccia. La parte più alta della schiena con la braccia. Inizia a muovere le dita delle mani in lato di occhi. Ora, a braccia e ginocchia porta il petto, vai in colla di nuovo la schiena su da petca. con la destra e la sinistra crea un leggero massaggio sulla fascia lombare lasciandola il tuo respiro benissimo, lentamente spostati su un piano porta leggeri occhialmente guardando, usa la faccia per non sforzare la schiena e venire su col busto ci sediamo andiamo di nuovo a percepire l'appoggio degli schienoni dei spavanti sul tappeto attivando bene l'addome portiamo le spalle in asse e il mento sollevato nello schermo lasciamo le braccia rilassate avviciniamo le scapole di qui accompagniamo giù il mento andiamo a destra andiamo a destra andiamo a sinistra andiamo a giù traigo a sinistra dietro e riscaldi ok al centro apri bene le spalle anche dall'altra parte ora appoggiamo le mani sul tappeto appoggiamo i piedi posiamo le gambe e le braccia ci alziamo lasciando le gambe unite i piedi appoggiati giù con il busto la testa pesante le braccia appenzano con lo sguardo verso le ginocchia rimaniamo lì a percepire la sensazione di rilassamento sulla fascia montare inspiriamo verso il fedelare e la seconda volta togliamo la colonna del terreno e dopo l'ereto per prima la parte più bassa della schiena inseriamo con la parte più centrale con la parte più alta quando siamo su apriamo bene le spalle riparichiamo le gambe le pieghiamo leggermente sulle braccia giù le spalle inspira fuori l'aria per una volta ancora espira e voilà bene grazie mille a tutti grazie mille a tutti grazie mille a tutti